Questo è un momento molto importante, chiaramente chiamerò qui la madrina. La madrina che è una delle nostre agenti di viaggio dell'Agenzia Tagliavia di Palermo che nasce nel 1938 addirittura. Ebbene, a questo punto accogliamo con un grandissimo applauso, un grande rismone, un vero e un grande applauso, signore e signori, del Golden Mother, signore e signori, la nostra Carolina Miceli, accompagnata dal comandante Massimo Gamparino. Buonasera Carolina, assolutamente da quella parte. E naturalmente con la nostra madrina, mi dò la Golden Mother, I would like to call the Gia, the Gia, also our names of honor. E vorrei cominciare qui adesso a chiamare anche le nostre damigelle Donore. e la prima, the first one, è Karine Raffel, Voyage Cimor de la Francia. Un applauso a compagnia da tutti i nostri amici. Un applauso a compagnia da tutti i nostri amici. E poi, Sonia Sauer, Frida Tur aus Tocela, from Germany. Guten Abend, willkommen hier. Piotr, Patricia Loders, Soberon Diage, Erika Bruttore de Contagnes, della Spagna. e naturalmente dalla Cina l'Indian International Travel Service from China nostro partner in Cina un applauso, grazie e adesso naturalmente signore e signori voglio richiamare qui sul palco stand I would like to invite a Cina